L'occasione è buona per incrementare le vendite dopo mesi di sofferenza per qualsiasi esercizio commerciale. Giovedì si inizieranno i saldi in Sicilia, l'isola sarà la prima regione a cominciare le vendite a prezzi ridotti, venerdì toccherà la Basilicata e sabato a tutto il resto delle regioni italiane. Circa metà delle famiglie, secondo Feder Consumatori, approfitterà dell'opportunità producendo a Palermo un volume d'affari attorno ai 25 milioni di euro. In questi casi le associazioni dei consumatori propongono una serie di raccomandazioni. La prima è di verificare, prima dell'inizio dei saldi, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, in modo da avere un riscontro certo del prezzo originario e della relativa riduzione. Le regole degli sconti obbligano comunque i commercianti a indicare su ogni prodotto in vendita il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale degli sconti. E se qualche esercente chiede il pagamento in contante, basta ricordargli che ha l'obbligo di accettare carte di credito del Bancomat tramite il POS.